ciao a tutti ragazzi bentornati da fra male sanco oggi siamo qua per un nuovo episodio fantastico delle recensioni dei cd devo lavarmi i capelli urgentemente ma non prima di aver realizzato questo video quindi oggi vediamo questo fantastico cd di ben nato che non è in realtà non è un album infatti per fortuna ho chiamato la serie recensioni cd e non recensioni album perché in questo caso in realtà abbiamo più che altro una specie di playlist una diciamo best of delle canzoni di eduardo bennato tra l'altro parlando dell'album a livello musicale cioè del cd a livello musicale direi che sono state scelte delle ottime canzoni come best of nel senso che sì abbiamo canzoni abbiamo le canzoni più famose però non soltanto quelle più semplicemente movimentate in realtà ci sono anche delle belle canzoni e mi piacciono tutte non mi ricordo se ce n'è qualcuna cioè a parte che le conosco praticamente tutte ce ne sono veramente poche che non conoscevo e non me ne ricordo però quelle che conoscevo sono tutte a parte che mi piacciono più o meno tutte le canzoni di bennato che conosco quindi è difficile se le conosco che non mi piacciono però non so secondo me è un best of fatto come si deve fatto per bene con una certa logica hanno scelto le canzoni giuste ma finito questo spompinamento a livello musicale direi che è il caso di andarlo a vedere a livello andiamo come avete già visto questa è la copertina e non so se siete d'accordo con me per me è veramente vomitevole una delle forse la allora non vorrei azzardare ma forse la copertina più brutta che abbiamo visto fino adesso in questa serie non la copertina più brutta che conosca perché silvestri ci va giù pesante su alcune copertine un po' più vecchie ma va bene non roba che non abbiamo ancora visto e che ancora non ho fisicamente perché è un po' più rara il retro vabbè sempre brutto però un po' ci sta minimale e c'è anche la cossa vi faccio vedere che altro i font sono veramente sbagliati cosa stai i font sono orripilanti quindi è uguale sto marroncino ora sarò io razzista contro il marroncino ma boh a me non mi gamba per nulla proprio né come sfondo ma neanche come composizione cioè è carina per dire sta cosa non ho voluto mettere questo dettaglio di capitanoncino che taglia e crea la e a parte che è fatto male se vedete è staccato si vede proprio la linea bruttissima ma poi è proprio sembra tutto buttato a caso non c'è una composizione Peter Pan è appoggiato sulla scritta in questo modo orribile tutto orribile questo ci sta a metterlo nell'angolino però non proprio pum prese e buttate sopra 24 bit di... ah vabbè andiamo a vedere all'interno belli questi cavi scusate sto cercando di aprire il pisellon perché non riesco ok ecco all'interno c'è da divertirsi allora qui più o meno è molto simile al retro solo che non ci sono i numeri nelle canzoni in realtà è scritto leggermente diverso qui è giustificato a sinistra però da qui questo invece è proprio giustificato al centro e quindi è speculare diciamo a destra e a sinistra poi sono stati messi questi dettagli che se non sbaglio sono identici si sono proprio messi allo stesso modo del retro il cd non lo so io non so neanche che dire però non mi piace perché è veramente brutto tutto così brutto vediamo il cd dietro c'è qualcosa? sì ecco questa è l'unica cosa che più o meno può andare ma alla fine sono i soliti tre elementi se ci fate caso non c'è niente di nuovo tra l'altro bella di tazzata ecco questo tipo di cd si lascia proprio l'unto delle mani rimane bello fiero in print proprio lì andiamo a togliere il libretto un secondo ecco qua il nostro librettazzo di dio lo andiamo subito ad aprire e ci troviamo allora qua la tracklist con tutte le informazioni sulla produzione che sembra un album di natale da come è messo e qua ci sono tutti i testi vabbè allora il font è sempre quello che è però in realtà vabbè ci sta come sono messe belle così incolonnate secondo me hanno ottimizzato abbastanza bene lo spazio e dai diciamola così però non è bello da vedere semplicemente sono cioè oddio non è brutto però sono dei testi scritti così un po' come se avessi il libro della messa coi testi cioè va bene non c'era molto da sbagliare è stato fatto il minimo bene abbiamo già finito di vedere abbiamo finito di vedere tutto quello che c'era da vedere quindi passiamo subito dopo 5 minuti alle valutazioni allora diciamo che non è sfuggito il fatto che a livello di bellezza non c'è niente di bello è brutto ci sono quei 4 elementi che vengono riproposti all'infinito a livello grafico cioè proprio a livello di disegno cioè nella copertina voi trovate tutti gli elementi cioè in questa copertina qua no uno dice vabbè trovi tutti gli elementi quindi è bella piena no ha questo sfondo marrone con sta scritta qua con tra l'altro ripeto hanno voluto fare questa cosa che non funziona e 1, 2, 3, 4 questi 4 disegni e vabbè il logo di Edward Do Bennato questo vabbè il titolo ma questi elementi qui sono gli unici elementi che troverete all'interno di tutto ciò quindi proprio belli piazzati davanti almeno sapete che ci sono ovviamente hanno voluto decorare il più possibile la copertina in modo da avere più roba possibile lì e il resto farlo lasciarlo un po' in secondo piano quindi diciamo che a livello di concept allora il concept non c'è praticamente sono dei disegni che prendono dall'album sì c'è il concept di qualcosa di cosa che poi non è un album continuo a dirlo la playlist chiamiamolo CD chiamiamolo CD in modo generico più che altro il titolo perché poi alla fine essendo un best off se avessero voluto fare una cosa fatta bene avrebbero dovuto prendere gli elementi da tutti gli album a cui le canzoni fanno riferimento perché non è un best off di un album singolo ovvero di come si chiamava non mi ricordo come si chiama l'album dove c'è l'isola che non c'è quello di Peter Pan mi sta andando un dubbio enorme come cazzo si chiama quell'album oddio mi viene in mente il burattino senza fili che è quello riguardo a Pinocchio quello invece riguardo a Peter Pan porca troia non mi viene in mente vabbè comunque non è quell'album lì dove ci sta a mettere tutte le cose riguardo a Peter Pan perché l'album parla di quello non è un album non è non è un best off su Peter Pan è una una cozzaglia di robe c'è roba del burattino senza fili c'è roba della torre di Babele c'è roba del primo album addirittura che era non farti cadere le braccia del secondo i buoni e cattivi c'è c'è tutto quindi non ha senso come elementi si riferiscono al titolo l'isola che non c'è che è la canzone probabilmente più famosa insieme al gatto e la volpe di Ben Nato quindi ti metto il titolo che si riferisce a quello e ti metto quindi gli elementi dell'album dell'isola che non c'è dell'album ma comunque in generale anche della canzone che comunque prende ispirazione al mondo di Peter Pan effettivamente ma vabbè non vengono neanche citati tra l'altro i personaggi nella canzone ma vabbè posso capire metterci questi elementi ma non c'è un concept vero e proprio della playlist avrei gradito di più anche se comunque fatto male magari un riferimento a diversi album a tutti gli album addirittura di Ben Nato precedenti a questo cd e comunque che sono contenuti in questo cd e invece no abbiamo solo elementi riguardo all'isola non c'è va bene sono qui cinque elementi c'è quattro via sono quattro disegni e poi c'è il logo di Ben Nato che è sempre uguale da 36 anni e mezzo 56 trilioni basta quindi niente il concept è il minimo che si può inventare c'è da dire vabbè essendo un best off è già tanto che ci sia stati dei disegni uno potrebbe anche dire però è uguale non è frica un cazzo un best off è un album comunque fa schifo e a livello di di design siamo sempre lì se non peggio se nel concept almeno ci sono degli elementi nel design non c'è veramente niente che ti fa dire carino questo è fatto bene questo è piacevole alla vista niente è piacevole alla vista i colori sono tremendi il modo in cui sono messi gli elementi è tremendo i colori li ho già detti beh basta non c'è nient'altro non c'è niente su cui soffermarsi e dire questo è carino quindi non è stato ovviamente pensato per essere bello da vedere però cacchio preferivo una copertina vuota piuttosto che questa porcata o l'isola che non c'è e basta la scritta l'isola che non c'è è minimale non c'è un cazzo ma perché semplicemente non mi puoi raccontare niente ma se mi vai a mettere degli elementi mi aspetto che ci sia un minimo beh lasciamo stare non c'è neanche cosa dire quindi a livello di concept e di design si riceve un tristissimo bah gli do un 3 sono veramente un 3 perché c'è qualcosina ma è proprio tremendo veramente tremendo questo rischia di battere il silvestri solo che il silvestri con il secondo album prima di essere un uomo ha ricevuto un punteggio molto basso e si dovrebbe essere tra l'altro l'ultimo nella nella playlist dei cd che è una classifica se voi andate a vedere sono in ordine di voto dovrebbe essere l'ultimo più che altro per una questione di contenuti non c'era un libretto con i testi c'era soltanto la copertina il retro della copertina orribile ma perché era un'edizione brutta di mio cd infatti poi ho recuperato un cd che ha fatto tipo formato vinile la copertina che ho sempre fatto vedere in questi video ha ricevuto un voto buono che era carino in questo caso invece siamo a livello di contenuti più o meno c'è quello che ci dovrebbe essere ci sono i testi basta un po' di abbellimenti ci sono il problema qui è a livello di bellezza non tanto di quello che c'è dentro quindi io direi che a livello di contenuti il 6 al minimo il 6 lo raggiunge perché comunque ci sono tutti i testi tra l'altro ci sono tutte le informazioni sulle produzioni di ogni canzone sulle produzioni di ogni canzone e e alla fine ci sono elementi ovunque non c'è niente vuoto poi che era meglio che fossero vuoti rispetto a che messo con quella roba lì è un altro discorso comunque c'è qualcosa l'importante è quello quindi gli do un 6 e mezzo dai diamogli sto 6 e mezzo di contenuti quindi andando a fare una media otteniamo 6 e mezzo più 3 che fa 9 e mezzo 9 diviso 2 è un bel 4 e mezzo con quel mezzo che avanza si aggiunge un 0,25 che lo porta a un 5 e meno 5 e meno dovrebbe posizionarlo penultimo forse addirittura è sempre sopra comunque a Silvestri sì sì forse sì sì perché Silvestri è stato veramente frustato anche a livello di design perché c'era solo copertina e retro la copertina e tra l'altro copertina il retro il retro del libretto era decente ok il retro della copertina che poi rimane lo stesso anche per la versione più bellina dell'album sono orripilanti è orripilante come retro la copertina è proprio orribile quindi ci sta che questo sia un pochino sopra almeno qualche elemento non è non è tremendo in quel modo lì e c'è qualcosina insomma l'hanno voluto un po' decorare e ci sono i testi soprattutto cosa importante quindi 5 e meno se lo porto a casa contenti? non lo so forse no però vabbè sono comunque contento di avere questo cd perché mi permette di ascoltare i lessici di di grande Bennato tra l'altro io in realtà di Bennato ho tanti cd perché lo ascoltava mio padre mio hub ho tanti cd suoi vi faccio vedere in che condizioni sono ecco qua il mitico album la torre di babele che tra l'altro ho ricomprato e vedremo in un prossimo video io ho preso un cofanetto che contiene anche dei dischi live vi faccio vedere questo qua la torre di babele ma questa è la versione vecchia non so di che anno sia di preciso questo però qui c'è scritto 76 ma non so no 2004 penso sia una versione 2004 questa qua stampata insomma c'ha 20 anni giustamente messa malino più che altro io non credo che farò mai recensione di questo di questo qua perché vi faccio vedere non c'è niente ora non so se forse in origine c'era un libretto dentro forse non lo so eh non ne ho idea potrebbe essere stato perso perché comunque che cazzo di formato è per un album un coso di cartone dove c'è sopra il cd e basta tra l'altro questo qua è il mitico scusate questo è il mitico cd però vabbè minimalista va bene fammi vedere in che condizioni è il sotto beh vabbè vabbè cioè i suoi 20 anni è stato usato e riusato pensavo anche peggio tra l'altro non credo che abbia danni meccanici gravi cioè dovrebbe funzionare ancora in teoria ma senza problemi perché se non sbaglio è stato l'ho ascoltato un po' di volte non mi ricordo che abbia aumentato problemi forse avrà più senso se questo ve lo faccio vedere insieme al suo fratello maggiore nuovo però vabbè ve l'ho voluto far vedere perché parlavamo di Ben Nato delle cose di Ben Nato quindi ci sta tra l'altro c'erano altri di cd che sono fatti allo stesso modo praticamente si sono sempre cartoncini con il disco incastro e basta proprio minimalista proprio avere qualcosa che contenga il cd è già tanto ci sia la copertina vabbè niente quindi abbiamo visto questo cd di oggi c'è un pochino deluso però comunque lo consiglio se voi siete amanti di eduardo Ben Nato se volete scoprirlo questo è un ottimo modo per scoprirlo prendete visto best of che contiene delle belle canzoni anche se io vi consiglio di ascoltarvi gli album perché forse è uno dei pochi che alla sua epoca faceva dei concept album vi consiglio di andarvi a recuperare soprattutto quei due anzi sono tre album che vi consiglio il primo è quello di Peter Pan che non mi viene in mente il titolo non so se si chiama Peter Pan ma non credo e il secondo è il burattino senza fili con tutte le canzoni riguardo a Pinocchio che non sono racconti di Pinocchio sono canzoni che prendono il mondo di Pinocchio o di Peter Pan e ti raccontano altre cose è molto bello e un altro invece che vi consiglio che non è un concept album e che è uscito in concomitanza a uno di questi due album però non mi ricordo perché non ho idea di quando siano usciti sono negli anni 70 o 80 quindi faccio un po' di difficoltà dal momento che sono nato tipo 30 anni dopo ma un altro bellissimo è Uffa Uffa o Uffa Uffa visto che c'è l'accento sulla A che è un album che se avete un'idea di Ben Nato vi consiglio andarvelo a sentire per cambiarla totalmente anche se un paio di canzoni sono diventate famose di di quell'album lì quindi in realtà un paio di canzoni sono abbastanza normali però però è un album molto strano molto molto particolare molto ganso che che magari uno c'ha l'idea di Ben Nato che fa quelle canzoni stile il gatto e la volpe l'isola che non c'è è sempre un po' la chitarra la fisarmonica cioè la non la fisarmonica l'armonica no c'è anche altro che è molto strano è stato proprio fa capire un po' la follia e la voglia di di fare il coglione di Ben Nato quindi vi consiglio di recuperarveli tutti e tre soprattutto Uffa Uffa che è quello un po' meno conosciuto va bene comunque è stato un piacere anche questa volta andare ad analizzare questo album noi ci vediamo prossima settimana con chissà quale altro cd che poi ripeto questo non era un album va bene specificato tutte le porte e ci vediamo domani con una grossa partitozza Tetris dal momento che è martedì c'è Tetris online per la precisione tetr.io che è Tetris online ragazzuoli sciopè crop limits